Come dicevo, è sempre difficile fare delle lezioni, soprattutto ai giovani, perché si passa subito per vecchi. Io penso che ci sia un po' il caso nelle cose che si fanno. Quindi quando si dice la passione, la passione, non penso che neanche la passione sia poi il vero motore delle cose. Per me almeno non lo è stato. Più che altro è stata la capacità di cogliere quelle che sono state le opportunità della mia vita professionale. Quindi penso che in effetti i giovani questo poi debbano fare. Riuscire in qualche modo a capire quando qualcosa gli piace, quella è la cosa difficile, e a non farselo sfuggire. Soprattutto ad essere ambiziosi. Questa è la cosa che in effetti è l'unica cosa che mi sento di dire alle persone più giovani, che me lo dico anche a me, puntare sempre molto più in alto di quelli che sono i reali obiettivi, fa sì che poi dopo in qualche modo si ottengano delle cose importanti. Nessuno avrebbe mai pensato personalmente che film come Benvenuti al Sud potessero diventare così popolari, e lo sono diventato. Questo perché uno appunto ci ha creduto e questo penso che è l'unica cosa che fa la differenza.